Buonasera da Pietro Lambertini, benvenuti a Chieti telespettatori di Reteotto, benvenuti da questa città con 3203 anni di storia alle spalle. Una città che adesso sta per vivere il suo momento più atteso. Siamo alla processione del Venerdì Santo, la processione del Cristo morto e la tradizione teatina è tra le più antiche e affascinanti d'Italia. Una tradizione che secondo la leggenda riporta l'anno 842, anno in cui è stata ultimata la ricostruzione della prima cattedrale. Qui la processione è un insieme di emozioni, è orgoglio, vanto e simbolo di questa città. La processione del Venerdì Santo unisce le generazioni, i figli portano avanti la tradizione tramandata dai padri. E in queste prime immagini vediamo i bambini sulle spalle dei genitori assistere a questo rito che non è solo religione, è religione che si fonda nella cultura, nella tradizione popolare. E oggi è il giorno del nuovo inizio. Per due anni a causa dell'emergenza Covid la processione non ha sfidato tra le consuete due ali di folla e una giornata che è cominciata già da questa mattina con la trasposizione del Statua del Cristo morto dall'oratorio dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Con me c'è Aurelio Bigi, cultore della storia teatina. Buonasera Aurelio. Buonasera a te e a tutti i telespettatori. Commentiamo insieme queste immagini bellissime. Qui stiamo nell'oratorio dell'Arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti. Dietro all'altare vi è questa nicchia dove viene costudita la statua del Cristo morto. È una statua questa del 1700. Vediamo in primo piano il governatore dell'Arciconfraternita, Giampiero Perrotti, che quest'anno ha dovuto lavorare non poco, anche perché oltre tutta l'organizzazione vi è anche il rispetto delle regole anti-Covid. Questa operazione si esegue il venerdì mattina alle 12. Si prende la statua e poi vedremo che verrà portato nel segretariato della stessa cattedrale. L'oratorio si trova in fondo alla cripta di San Giustino, ha anche un ingresso indipendente ed è l'unico ambiente che conserva gli stucchi barocchi dell'inizio del 1700 che caratterizzavano anche la cripta di San Giustino. Poi con il restauro del 1970 circa venne ripristinato il Medioevo. Ecco qui dalla cripta l'Arciconfraternita è salita su in cattedrale, siamo entrati nel segretariato e viene deposto il Cristo morto su questo sarcofago con questa coltre di velluto nero con ricami d'oro e d'argento. Sono ricami molto antichi che sono stati staccati dal precedente coltre che subì un invecchiamento e è ricollocato agli inizi del 1900 dall'esore. Ecco sul Cristo morto viene messo questo velo bianco che contrasterà poi nettamente con la statua della Madonna addolorata che invece verrà caratterizzato da un abito completamente nero e porterà in mano un fazzoletto proprio per asciugare le lacrime del dolore stesso. È un'operazione lenta? È un'operazione lenta, rituale nel senso che sono secoli che viene effettuato così con il massimo rispetto, nel massimo silenzio. Infatti questo silenzio che sentiamo è proprio voluto e qui stiamo nella cripta dove c'è quel cancelletto che fa accedere all'oratorio. Ecco gli stemmi che vediamo sulla sinistra sono gli stemmi delle famiglie nobili della città e qui adesso sta uscendo dal segretariato dell'arci confraternita la statua della Madonna che viene vestita, allora intanto viene custodita in un armadio ligno che è in questa camera e viene vestita il mercoledì santo con gli abiti diciamo della cerimonia quindi dismette gli abiti di casa e viene vestita con gli abiti della cerimonia con tutti quegli abiti che una volta si usavano ecco tutte le sottogonne, le vesti, il mantello nero come dicevamo tutta coperta qui invece il basamento vediamo che è altrettanto nero è la priora che ha curato assieme alla Sart che da diversi decenni e assieme a pochissime altre donne ha provveduto al vestiario. Questo è un momento particolarmente delicato in cui la statua viene sollevata e posta sul basamento posta sul basamento, ovviamente la statua non può essere toccata da uomini infatti questi uomini che vediamo toccano il basamento della statua ma non la statua stessa e qui stiamo sempre nel segretariato dove hanno già sistemato il Cristo e qui sistemano la Madonna subito dopo il Cristo ed è un po' la sintesi di tutta la processione del Cristo morto il dolore di una madre che ha perso il proprio figlio abbiamo il cerimoniere dell'arci confraternita Luigi Cornacchia che coordina queste operazioni e qui siamo tornati nell'immagine indiretta Con queste immagini vediamo il ritorno della gente in strada oggi è il nuovo inizio per la processione di Chieti per due anni a causa dell'emergenza Covid la processione non ha sfilato tra queste consuete ali di folla nel 2020 e nel 2021 le immagini dell'arcivescovo Bruno Forte che porta la croce in solitaria lungo le strade di una città desolatamente vuota hanno fatto il giro d'Italia e anche del mondo oggi torna questo pubblico al massimo 14.000 persone tutte con la mascherina questo impongono le direttive dettate dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica direttive che hanno provocato anche polemiche e ora vediamo la cattedrale di San Giustino i preparativi per l'inizio di questa processione che è un simbolo di questa città vediamo gli stendardi e anche i bambini che partecipano a questa manifestazione per quest'anno Piazza San Giustino è un cantiere aperto secondo il cronoprogramma del Comune il cantiere dovrebbe concludersi nel giro dei prossimi mesi e per l'uscita dell'arcivescovo Forte dalla cattedrale è stata realizzata una passerella provvisoria quindi nella piazza non c'è la folla degli anni passati ad attendere la partenza del corteo con la sua colonna sonora il miserere di Serecchi con noi c'è un altro ospite a commentare la processione è l'avvocato Stefano Marchionno un altro esponente della cultura teatina già presidente dell'associazione Noi del Vico che riunisce gli ex studenti del noto liceo classico e attuale presidente del comitato per il centenario del Chieti Calcio benvenuto Marchionno, cos'è per lei la processione? Buonasera, buonasera e grazie per l'invito la processione, innanzitutto oggi è venerdì santo è un giorno di lutto in cui si commemora e si ricorda la passione e la morte di Gesù è un giorno di preghiera e di raccoglimento oggi in particolare dobbiamo avere uno sguardo rivolto anche alla guerra in Ucraina è un giorno di riflessione dobbiamo guardare dentro di noi per prepararci per aprire i nostri cuori alla Pasqua di risurrezione per noi di Chieti il venerdì santo assume un valore ancora più particolare molto probabilmente è il giorno in cui tutta la comunità teatina è il giorno più atteso da tutta la comunità teatina ed è quello che più di ogni altro coinvolge gli animi di tutti noi parafrasando un vecchio detto Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi si potrebbe dire che a Chieti è l'esatto contrario tanto è vero che il poeta teatino Renato Sciucchi nel 1967 quindi ben 55 anni fa scrisse una poesia dedicata al venerdì santo il cui incipit era il seguente ecco questi versi di Renato Sciucchi a mio avviso rappresentano molto bene quella che è la processione per noi teatini è qualcosa che abbiamo dentro è qualcosa che ci appartiene la processione è Chieti e Chieti è la processione del Cristo morto la processione di Chieti intanto sta cominciando apre la processione, lo stendardo nero dell'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti accompagnato dai confratelli incappucciati di San Francesco Caraccio a seguire poi vedremo i sette simboli scortati ognuno da due valletti che sfilano indossando abiti di foggia settecentesca la tradizione di questa processione è sentita e parteciparvi da protagonista è un'ambizione per tanti anche per i giovani Marchiondo mi racconta un po' questo sentimento questa voglia di partecipazione che c'è anche tra i giovani Sì, lo dicevamo prima probabilmente la manifestazione, l'evento non solo religioso più sentito dall'intera cittadinanza ma faccio un esempio banale adesso vedete i confratelli dell'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti stanno portando il simulacro ci sono i valletti c'è una lista lunghissima di persone che vogliono fare ad esempio i valletti quindi c'è questo sentimento di partecipazione non soltanto attraverso le migliaia e migliaia di persone che si dislocano lungo il corteo ma anche di una partecipazione più attiva quindi i vari fratelli e sorelle delle confraternite delle varie parrocchie e chiese rurali teatine ma anche a partecipare appunto come valletti proprio perché, ripeto la processione ci appartiene la sentiamo dentro di noi e proprio per questo ne vogliamo fare parte a tutto tondo Cominciamo a vedere i simboli della passione che escono dalla cattedrale di San Giustino e percorrono questa scalinata nel tempo la processione si è arricchita di questa collezione di simboli si è arricchita della struggente statua della Madonna addolorata che prima abbiamo visto nel segretariato dell'arci confraternita e poi di questi sette trofei si tratta di sculture in legno realizzate nella metà dell'Ottocento dall'artista teatino Raffaele Del Ponte che rappresentano appunto i momenti salienti della passione Bigi, cosa vediamo in questo momento? Adesso è il sasso che esce vi sono i dadi vi è la brocca di Pilato con il quale appunto Pilato si lavò le mani ma ecco su questi simulacri penso che poi torneremo a parlare nel momento in cui sfileranno in diretta sotto la nostra telecamera questo è il momento dell'uscita della processione in cui escono solamente i simboli poi verso via Arcivescovado si ricollega vi è da dire che quando esce la processione del Cristo morto è come se in questa sfilasse tutta la città con le sue tradizioni, i suoi santi, la sua storia dirì di più con tutti i suoi abitanti di oggi e di ieri è come se ogni teatino sfilasse con la propria confraternita del centro storico o delle varie contrade tutte unite dalle note struggenti del miserere una musica forte che arriva al cuore una fontana di lacrime come diceva il Gabriele D'Annunzio ognuno ricordando quanto era ancora piccolo vedeva incuriosito e un po' intimorito gli incappucciati e si teneva stretto alla mamma come ricordava il nostro grande poeta dialettale Raffaele Fraticelli nella sua poesia degli anni 50 e qui è bene ricordare Raffaele Fraticelli scomparso non molto tempo fa una processione che ha come punto centrale la passione che si è fatta dolore, sofferenza, estruggente il Cristo torturato e diriso identifica l'ingratitudine e la sofferenza umana di sempre l'eterna lotta del bene contro il male la Madonna addolorata che abbiamo visto proprio prima quando la mettevano nel segretariato riassume in sé le sofferenze di tutte le mamme del mondo che perdono il proprio figlio a causa di malattie, di incidenti della droga, della cattiva compagnia o della criminalità è qui il centro di tutto al di là delle confraternite dei sette simboli di Del Ponte tutto diventa semplice preparazione spirituale ed emotiva a quello che è il vero centro della processione il Cristo morto che sfila rapido e lo vedremo fra poco è la Madonna addolorata che lo segue con il fazzoletto bianco tra le mani intriso di lacrime scena questa che ci fa tornare alla mente la bella lauda di Jacopone da Todi che ritrae la Madonna affranta nel vedere ormai moribondo il proprio figlio una sofferenza tutta umana e tutta questa scena drammatica è sottolineato dall'immagine di un mare di incappucciati e anche questo avremo modo di vedere fra poco tra il nero e il dorato ed una colonna sonora d'eccezione il miserere di Selecchi una musica scritta da un teatino doc per essere suonata solo a Chieti così voleva lui proprio per la processione del venerdì santo ma è talmente toccante che ormai è cantata e suonata in tante altre processioni del Cristo morto ma qui a Chieti è da 300 anni che il miserere viene eseguito e quest'anno come negli anni precedenti da oltre 300 cantori e suonatori è impossibile non emozionarsi in questo momento clou lì vi è Chieti la sua storia la sofferenza del suo popolo la sua cristianità la sua nobiltà d'animo a dirla con una parola lì c'è la teatinità al vero teatino bastano due note di questa musica sentita in qualunque parte del mondo e in qualunque stagione per fargli riprovare quel fremito unico che solo il suo miserere riesce a trasmettere Bigi ha aperto il capitolo della musica parliamo della musica e dei protagonisti c'è stato un fuori programma dell'ultimo minuto perché il maestro Giuseppe Pezzulo per un'indisposizione non è presente al suo posto a guidare i musicisti c'è la violinista Silvia Di Virgilio accanto a lei il maestro Loris Medoro per due anni i maestri hanno guidato il miserere dai balconi adesso invece sono in strada in strada c'è questo gruppo di 300 cantori e musicisti in un libro proprio lei Bigi ha scritto è una musica che si inizia a percepire da lontano e che ti carpisce l'attenzione e il cuore è sempre un'emozione emozione fortissima io penso che la processione del Cristo morto di Chieti senza questo miserere che ripeto il miserere di Selecchi di Chieti non sarebbe quello che vediamo e che è reputato il più importante il più antico almeno d'Italia ecco vediamo l'arcivescovo Bruno Forte è appena sceso dalla gradinata della cattedrale di San Giustino al suo fianco c'era anche il prete ortodosso padre Anatoly Glitsvit il prete ucraino che è stato in prima linea durante questi giorni neri segnati dal conflitto è stato proprio padre Anatoly lo vediamo proprio in questo momento a raccogliere tantissima solidarietà e a portare la solidarietà di Chieti e della provincia ai confini con l'Ucraina martoriata dalla guerra il miserere di Selecchi ecco il miserere di Selecchi volevamo raccontare una curiosità sul padre del miserere il vero nome dell'autore era Saverio Sallecchia il musicista nacque proprio a Chieti il 2 novembre del 1708 e Selecchi era un compositore che a soli 25 anni divenne già maestro di cappella della chiesa metropolitana di Chieti e compose un gran numero di opere sacre ma la sua produzione è andata in larga parte perduta ad eccezione del miserere il miserere che Selecchi compose da giovanissimo intorno al 1730 quando aveva circa 22 anni e c'è proprio una leggenda che circola intorno al miserere si narra che l'opera sia legata proprio alla processione del Cristo morto di Chieti da un lascito del maestro a favore del Sacromonte dei Morti con l'obbligo di eseguirlo tutti gli anni leggenda o verità? Bigi Chieti e il miserere sono legati indissolubilmente? Sì sì no non è una leggenda è verità è verità infatti dicevo prima sono 300 anni che questo miserere viene cantato e suonato in occasione della processione molti ne conoscono la musica ma non le parole queste ultime sono tratte dall'invocazione straziante di David re di Gerusalemme per ben 40 anni profeta e cantore impareggiabile re David però si era macchiato di un duplice peccato adulterio con la moglie di Uria e omicidio indiretto e fu il profeta Nathan che gli rimprovera le colpe gli racconta di un vecchio contadino della sua pecorella rubata da un re potente David commosso nel seguire il racconto all'accusa esplicita del profeta ma sei tu quell'uomo si rende conto del suo duplice peccato si prosta a terra e grida miserere mei Deus questo salmo 50 è un grido di sgomento di angoscia inesprimibile ma anche di speranza e di fiducia nella misericordia di Dio e la bravura di Selecchi è stata nel creare per un testo così doloroso una musica struggente diretta nella sua semplicità melodica un connubio tra testo e musica perfetto dicevamo prima non a caso Gabriele D'Annunzio la definì una fontana di lacrime i musicisti musicisti che per quest'anno sono tornati in strada dopo due anni di silenzio si sentono le note del violino per le strade di Chieti questa come diceva Bigi prima è una processione che affascina affascina i teatini e affascinato nel tempo anche i grandi della cultura Gabriele D'Annunzio l'ha definita una fontana di lacrime proprio D'Annunzio che scoprì la processione di Chieti durante la sua parentesi teatina quando all'età di 15 anni frequentava il liceo classico Vico queste immagini sono davvero bellissime ci riportano al presente dopo due anni difficili nel 2020 con il corteo solitario dell'arcivescovo Bruno Forte la città era deserta invece adesso Corso Marrucino è gremito improvvisamente due anni fa il Cristo si è staccato dalla croce un movimento immortalato dalla diretta delle telecamere di Rete 8 Forte ha parlato di quell'episodio come il simbolo di una caduta ma dopo una caduta ci si può rialzare questo è il messaggio che ha mandato l'arcivescovo adesso vediamo lo stendardo nero dell'arci confraternita del Sacromonte dei Morti con gli incappucciati che seguono la processione Marchionno se lo ricorda lei quel frangente in cui Cristo si è staccato dal crocifisso si me lo ricordo benissimo sbigottimento è un segno è un segnale sicuramente sappiamo che Gesù cadde tre volte quando portava il peso della croce e dei nostri peccati si è rialzato come diceva il nostro arcivescovo è stato un segnale positivo ossia dopo la caduta ci si rialza e si va avanti ci auguriamo appunto che questa ripartenza da quest'anno con la processione nel suo massimo splendore con la sua completezza anche se ho delle limitazioni dovute ancora alla pandemia latente però che ci possa proiettare verso un futuro migliore comunque vediamo adesso i motociclisti della Polizia Municipale che come sempre anticipano l'inizio del corteo perché per chi non è di chiedi per chi non ha mai assistito alla processione e sono sempre loro che con con le motociclette fanno in modo che le persone che il pubblico che i fedeli presenti si spostino un palindietro per creare lo spazio necessario affinché la processione e i trofei Cristo Cristo morto e la Madonna possano passare senza problemi e penso che di qui a breve lo standardo già si vede dell'arci confraternità e quella qui del Sacro Monte dei Morti che ufficialmente apre il corteo e apre la processione vediamo tanti che fanno le foto con i cellulari questo è un momento da ricordare un momento da ricordare meglio ancora è un momento da vivere il ricordo viene successivamente purtroppo il cellulare fa sì che non si vive il momento perché il momento viene utilizzato per fotografare comunque qui abbiamo il gonfalone che è stato confezionato nello stesso periodo in cui Raffaele del Ponte realizzò i simulacri quindi parliamo del 1855 oggi è montato su di un'asta di circa 5 metri e mezzo nel passato era ancora più alta me lo ricordo ecco sempre per la mia vetusta età ma venne tagliata per evitare che toccassero i fili della linea filoviaria che sino a pochi anni fino agli anni 60 passava per il corso marruccino vediamo ecco questo gonfalone che è sorretto dai fratelli dell'arciconfraternita del Sacro Monte dei Morti e vedremo fra poco sfilare i confratelli invece della confraternita di San Francesco Caraccelo già di Santa Maria del Tricalle che fa da scorta al gonfalone stesso i confratelli hanno una mozzetta color granata con doppio bordo dorata questa confraternita è recente non è molto antica risale al 1963-64 ecco questo una risposta a chi dice sì ma le confraternite fanno parte del passato vediamo invece a Chiti no perché abbiamo qui delle confraternite che sono nate nel 1500-1600 e nello stesso tempo vi sono confraternite nate nell'ultimo decennio ecco questi che vediamo incappucciati bianchi con la mozzetta color granata e è proprio la confraternita di San Francesco Caraccelo Raffaele del Ponte approfittiamo ecco di questo momento l'artista che realizzò i sette simboli che fra poco vedremo studiò a lungo a Napoli realizzò anche la pittura posta sulla volta della chiesa di Santa Chiara riproducendo l'assunzione della Madonna fu bravo ed apprezzato in vita però morì in povertà e i suoi amici curarono la realizzazione della sua tomba tutt'ora esistente nel cemitero monumentale di Chiti entrando dopo circa 100 metri vi è un obelisco tra l'altro l'unico obelisco che abbiamo nel cemitero quindi facilmente riconoscibile in pietra locale sarebbe il caso di curare il suo restauro perché vedo che sta cadendo un po' a pezzi anche perché la pietra della Maielle è una pietra tenera ed è facilmente deperibile un'altra cosa che approfitto di questo momento in cui si sfila lentamente e il corteo fa il giro della fontana che ahimè sta nel centro della piazza per cui non la vediamo in maniera diretta quando vediamo i colori delle mozzette vedremo confraternite con mozzette azzurre altre nere altre rosse tranne qualcuna che magari così se l'è invendata tranquillamente lo possiamo dire onestamente senza fare peccato ma a un colore corrisponde sicuramente un qualcosa ad esempio tutte le confraternite che hanno a che fare con la Madonna e quindi la Madonna del freddo e le altre hanno delle mozzette sul celeste che oscilla dal celeste all'azzurro ma la tonalità è quella quelle che invece hanno mozzette nere sono quelle attinenti alla morte quindi il sacromonte dei morti e quindi le orazioni e morte anche non parlo di chiedi ma parlo a livello generale quelle che sono invece sul giallognolo sul marroncino sono dei carmelitani quelle sul rosso sono o di santi martiri o di quelli che hanno a che fare con la sanità e quindi con i malati con gli ospedali sappiamo che le confraternite nel passato hanno creato tantissimi ospedali una volta gli ospedali erano creati dalle confraternite dalle arci confraternite non era un discorso sociale a cui pensava lo Stato così come quelle ad esempio con il verde mozzette verde sono quelle di o San Rocco o le vediamo a Sulmona la domenica la Madonna che scappa e quindi la Madonna di Loreto la confraternite della Madonna di Loreto porta le mozzette verdi ecco così come vi è da dire che ogni tipo di confraternite ha una data di nascita se parliamo di una confraternite del Santissimo Sagramento che è il più diffuso a livello nazionale e quella è nata nel XVI secolo i sacri i confraternite dei morti sono nati anch'essi nel XVI secolo quindi quando uno magari si sente dire a volte nel paese c'è questa confraternite del Sacromento e dei morti del 1400 non è vero non può essere perché la loro datazione è successiva a quella e così via ecco adesso stiamo vedendo il labbro della confraternite che dicevamo prima del Tricalle di Chieti e la parrocchia intestata San Francesco Caracciolo la testa del corteo è arrivata sotto la sede della provincia di Chieti tra due ali di folla abbiamo visto all'inizio del corteo per garantire la sicurezza e il dispiegamento degli uomini e delle donne delle forze dell'ordine i volontari delle associazioni di protezione civile e adesso sfilano gli incappucciati Certo seguitiamo ancora a vedere i confratelli della confraternite di San Francesco Caraccio lo dicevamo nato tra il 1963 e il 1964 però vediamo che è composto da un bel numero di persone ovvio è da dire che queste confraternite non è che svolgono solamente la loro presenza nella processione del venerdì e poi stanno tutto l'anno riposando loro durante tutto l'anno svolgono attività di carità verso i più poveri ecco questa è una caratteristica da sempre sin da mille anni che sono costituite le confraternite le confraternite hanno sempre svolto attività a favore dei poveri degli ammalati degli abbandonati degli orfani delle cosiddette donne pericolanti o pericolate e questo è rimasto ininterrotto per mille anni ecco la stessa arci confraternite del sacro monte dei morte che organizza la processione di quest'oggi nel passato e tutti gli anni fa attività di carità magari paga libri a studenti che non possono permettersi di acquistare libri famiglie disagiate oppure determinate attività importanti ad esempio allo stesso ascensore ecco quest'anno c'è la possibilità di vedere la cattedrale anche per i disabili perché possono utilizzare l'ascensore che è stato costruito anche grazie al contributo della stessa arci confraternite la processione intanto arriva all'angelo nel vivo vediamo il primo simbolo il primo simbolo è l'angelo cosa significa è un angelo vestito di viola che è il colore proprio della passione ricorda quanto scritto nel vangelo di luca padre se vuoi allontana da me questo calice tuttavia non sia fatta la mia ma la tua volontà e gli apparve allora un angelo dal cielo a confortarlo ecco il significato di quest'angelo mi preme dire una cosa che questi simboli che noi vediamo 1855 almeno i tipi già erano visti nel 1575 nella processione pensate un po' di Rocca Spinalvetti quindi un piccolo paese che in quell'epoca aveva già questi simulacri e perché questo accade perché il nostro perché la nostra processione è una processione di carattere medievale non è di carattere barocco tant'è che i simulacri che fino al 1855 vi erano erano squisitamente tre vi era il Cristo morto vi era uno scheletro grandezza umana che aveva su una mano una croce e un altro la falce e lo stendardo era un funerale era una tipica processione medievale anzi questa serve proprio per rafforzare che mentre Chieti durante altri periodi aveva aveva processioni con 90 statue la processione del venerdì Sandro rimane una processione ecco abbiamo visto passare l'angelo mi preme dire solamente che dal 1855 al 92 l'angelo veniva portato dai confettieri dagli ottonai e fanno scorta all'angelo le confraternite di San Gaetano e di San Giuseppe che hanno il le bozzette Bordeaux vediamo adesso le lance in basso vedete si vede un sacchetto che contiene le 30 monete d'argento chieste da Giuda ai sacerdoti a che consegnasse Gesù più in alto vi sono le torce e le lance serviti a Giuda e ai soldati forniti dai sommi sacerdoti e dai farisei per andare a prendere Gesù questo simbolo veniva portato dai serpali ecco questo perché dal 1855 ogni categoria di lavoratori portava un un trofeo oggi come per gli altri sei simulacri realizzati da Del Ponde vengono portati invece dai soci aggregati all'arci confraternita del Sacro Monte dei Morti fanno da scorta al simbolo delle lance e qui le vediamo la confraternita delle crocelle con mozzetta rosso scuro con guarnizioni argendo cingolo giallo e cappuccio bianco questa congrega nacque nel 1936 ma la sua storia si ricollega alla confraternita della dolorata che nacque addirittura nel 1685 nella chiesa dei Celestini sulla Civitella ecco poi vi è l'arci confraternita della Madonna della cintura originata da quella delle crocelle sono solo donne queste che vediamo sfilare è l'unica confraternita di solo donne con sacco nero e mozzetta argendata bordata nera l'originaria confraternita della cintura fu costituita nel 1708 nella chiesa di Sant'Agostino nel 1856 fu eretta dal re Fertinando II al rango di arci confraternita e nel 2004 fu estinta ma ben presto ecco ricostituita dalle donne ultima confraternita che fa da scorta è quella di Santa Maria Calvona con mozzetta rossa bordata in oro e di recente costituzione la sua origine infatti risale al 2013 arriva il gallo siamo passati al gallo e i flagelli del ponte per questo simulacro si fece guidare dal Vangelo secondo Giovanni la colonna ricorda dove fu legato Gesù la mano quando una delle guardie romane diede uno schiaffo a Gesù dicendo ma così rispondi al sommo sacerdote il gallo quando uno dei servi del sommo sacerdote parente di quello a cui Pietro aveva tagliato l'orecchio disse ma non ti ho forse visto con lui nel giardino Pietro negò di nuovo e subito un gallo cantò i flagelli ricordano quando Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare questo simbolo veniva portato dai muratori fanno da scorta alla colonna la confraternita di Santa Barbara una confraternita numerosa che porta due standardi che fra poco andremo a vedere ecco adesso rivediamo l'immagine della colonna con Gallo seguita dalla confraternita di Santa Barbara che porta due standardi ecco il primo che è proprio di Santa Barbara e poi venne un'altra storica della compagnia della Madonna della Croce la prima quella di Santa Barbara ha una mozzetta rossa gli altri invece celeste con bordo dorato la prima quella di Santa Barbara è nata prima della seconda guerra mondiale quindi a meno di un secolo di vita si sciolse e si ricostituì recentemente nel 2013 ecco i rossi sono quelli di Santa Barbara che sfilano dietro lo standardo di Santa Barbara e poi vediamo lo standardo della storica compagnia della Madonna della Croce con gli altri confratelli con mozzetta celeste un altro simbolo arriva questo è il volto santo che simboleggia l'episodio della Veronica e riproduce le sembianze del volto santo di Manopello Bigi ci dica la Veronica asciugò il volto a Gesù che rimase impresso sul biancolino il volto è stato dipindo su un tessuto sottilissimo tenendo a modello proprio il volto santo di Manopello che oggi è salito alle croniche nazionali per essere il più compatibile con la Sacra Sindone la Chiesa ritiene che il volto santo di Manopello sia proprio quello della Veronica che sino al 1500 e cioè sino a quando non venne costruita l'attuale basilica di San Pietro a Roma era costruita proprio a Roma nella vecchia basilica di San Pietro dopodiché scomparve fu trafugata e dalle ultime ricerche effettuate sembra che fosse proprio quella del volto santo di Manopello una volta veniva portato dagli scrivani evidentemente perché gli scrivani erano poco forti erano più di intelletto e quindi avevano un trofeo dal peso molto limitato alla fata scorta a questa confraternita vedete il trofeo viene portato dai confratelli aggregati del dell'arciconfraternita e a fianco vi sono i paggi con i costumi del settecento ecco i fanali lampioni di cui parlavamo prima che servivano per illuminare veramente la strada nel passato una pillola al volo proprio sul volto santo di Manopello recentemente tre o quattro anni fa i registi teatini Fabrizio Franceschelli e Anna Cavasini hanno realizzato un docufilm che avente per oggetto proprio il volto santo di Manopello ed hanno raccontato benissimo quello che diceva prima Aurelio Biggio ossia il viaggio da Roma fino a Manopello che testimonia che quello che è costudito a Manopello è la vera icona che si trovava prima a Roma però adesso vedo che sta arrivando il sasso quindi riconsegno un microfono ad Aurelio sì prima del sasso ecco volevo dire che il volto santo è scortato dalla confraternita della Madonna delle Grazie che mozzetta rossa e bordo dorato le origini di questa confraternita sono antiche risalgono addirittura a prima del 1576 dico prima del 1576 perché spesso nelle confraternite non abbiamo un atto costitutivo che ci permette di essere certi di una data ma abbiamo un documento del 1576 che fa riferimento all'esistenza di questa confraternita abbiamo adesso il sasso sul sasso vi è una tunica una corona di spine dei dadi una brocca d'acqua che usò Pilato il sasso ricorda il trono di Beffa sul quale fu fatto sedere il Cristo incoronato di spine con una canna in mano a simboleggiare uno scettro la corona ricorda quando i soldati romani intrecciato una corona di spine la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso il mantello di porpora quindi lo sbeffeggiavano dicendogli salvere dei giudei e gli davano schiaffi i dadi e la tunica riportano alla memoria quando i soldati romani si divisero tra loro le vesti di Gesù e sulla sua tunica giocarono a dadi la brocca che abbiamo visto in basso ricorda quando Pilato visto che il tumulto cresceva sempre più e non condividendo la condanna a morte di Gesù prese dell'acqua e si lavò pubblicamente le mani davanti alla folla ecco questo bacile che adesso vediamo è la brocca di questo gruppo appartengono alla famiglia Obletter si racconta che quando Monsignor Luigi Ruffo Scilla battezzò padre Gabriele Obletter morto in odore di santità utilizzò proprio questa brocca e questo bacile padre Gabriele Obletter è morto nel 1964 è stato proclamato servo di Dio ed è in corso la causa di beatificazione le sue spoglie riposano all'interno della chiesa del Sacro Cuore di Chieti questo nell'ultimo periodo della sua vita stava nella chiesa della Madonna degli Angeli di Assisi il sasso veniva portato una volta dai contadini fa da scorta a questo simbolo la confraternita della Madonna del freddo con mozzetta celeste e bordo dorato un altro simbolo appare sotto le nostre telecamere lungo corso marrucino la scala essi fanno parte di questo gruppo la canna con la spugna che ricorda quando un soldato romano corse a prendere una spugna e imbevutola di aceto la fissò su di una canna per dare da bere a Gesù la lancia per ricordare quando uno dei soldati gli colpì il costato con la lancia e subito uscì sangue ed acqua la scala col sacchetto ricorda infine Giuseppe d'Arimatea e Nicodemo che dopo la crocifissione presero il corpo di Gesù e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici come era usanza seppellire tra i giudei una volta veniva portata dai falegnami ecco che vediamo in primo piano questo trofeo con gli arnesi che servivano per crocifiggere il Signore fanno da scorta l'arci confraternita di Santa Maria di Costantinopoli in Santa Chiara mozzetta azzurra eccola qua mozzetta azzurra con Francia dorata e stelline il cingolo col fiocco e azzurro il medaglione rica l'effigie di una cometa ecco che abbiamo visto anche nello stendardo la cometa anche questa confraternita arci confraternita dal 1856 esisteva dal 1576 vi è una pagina di storia in cui vengono descritte venne descritta una processione in questa processione esistevano già sei confraternite questa era una di quelle 1856 divennero arci confraternita la confraternita dei cinturati quella della Santissima Trinità dei pellegrini quello del Sacromonte dei morti e appunto quella di Santa Maria di Costantinopoli una di queste venne eletta starci confraternita ancora prima due anni prima mi riferisco alla confraternita del Santissimo Rosario che aveva un un istituto per la cura delle donne abbandonate pericolanti e pericolate poi vi è la madonna la vale da scorta alla scala abbiamo la confraternita di Santa Maria della Vittoria eccola qua vediamo adesso lo stendardo mozzetta viola con freggi circolari dorati opera nella chiesetta di Santa Maria della Vittoria Santa Maria della Vittoria si ricorda a Chieti perché fu istituita nel momento in cui i soldati teatini tornarono vincitori dall'ultima battaglia dall'ultima crociata mi riferisco alla battaglia di Lepanto mentre compare la croce un altro dei simboli della passione con ai piedi il simbolo del serpente e un teschio si comincia a sentire prepotente la musica il canto del miserere il segno distintivo di questa processione e quindi ci affrettiamo a descrivere la croce così poi quando passerà il miserere non parleremo e faremo sì che i nostri telespettatori possano udire il miserere di Selecchi la croce è l'ultimo dei simulacri del ponte una grande croce con iscrizione abbiamo letto Irri e alla base un cranio ed un serpente il cranio rappresenta Adamo la cui colpa è stata vinta dal sacrificio di Cristo il serpente allude al peccato originale il gruppo ricorda quando Gesù portando la croce sulle spalle si avviò verso il luogo del cranio detto in ebraico Golgota Pilato fece quindi comporre una iscrizione e lo fece porre sulla croce vi era scritto Inri e cioè Gesù Nazareno re dei giudei e la scritta fu messa in ebraico in greco e in latino la croce veniva portato dai fabbri che formavano la congrega di Sant'Eligio nella relativa chiesa ora abbattuta due sono le confraternite che fanno da scorta la congrega di Maria Santissima del Rosario mozzetta nera vedete con grani del Rosario bianchi e bordatura rossa questa si è ricostituita da poco ricostituita perché già preesisteva un'analoga confraternite anzi arci confraternita di matrice domenicana costituitasi nel Cinquecento gestì per lungo periodo un conservatorio per donne pericolate e pericolanti come dicevamo prima nel 1856 fu innalzata al rango di arci confraternita poi vi è la confraternita della misericordia vediamo se fra poi eccola qua la confraternita della misericordia riconoscibile perché ha sia il saio che il cappuccio color nero a Chieti è sorto nel 1987 ma a livello nazionale esisteva già dal XIII secolo e fu una confraternita ed è una confraternita molto importante seguono con questo mantello bianco e la croce i cavalieri del santo sepolcro di Gerusalemme una ventina di anni e questi fanno da scorta all'arcivescovo ecco che vediamo benedicente eccolo l'arcivescovo della diocesi di Chieti Vasto Bruno Forte con un volto visibilmente sorridente inizia adesso la parte centrale del corteo se prima del passaggio della processione vi era un certo brusio tra i fedeli al passaggio dei simulacri si è fatto silenzio a breve quando passeranno le statue del Cristo morto e della Madonna questo silenzio vedremo che sarà profondo pregno di devozione ecco siamo nel momento in cui sfila lo stendardo dell'arci confraternita del sacro monte dei morti vi è il governatore e l'assistente e poi vi sono tutti gli altri sfilano i fratelli di governo quindi i restanti confratelli che portano le statue del Cristo morto e della Madonna addolorata qui non sono i soci i fratelli aggregati sono proprio i confratelli dell'arci confraternita l'abito si compone di un camice nero con cappuccio stretto in vita da un cordone nero una mozzetta imbroccato dorato con una lista di fettuccia d'oro e uno stem dell'arci confraternita ricamato sulla mozzetta e sotto il saio è d'obbligo indossare abito nero scarpe nere e guanti bianchi abbiamo visto il Cristo morto questo è presente nella nostra processione sin dall'inizio del 1600 cioè da sempre da quando l'organizza l'arci confraternita e segue la statua della madonna che entrò a far parte della processione nel 1833 quella che vediamo oggi comparve in processione la prima volta nel 1910 ed è opera della prima metà dell'800 viene gelosamente conservata nella sede dell'arci confraternita come abbiamo visto a inizio della trasmissione adesso stiamo in silenzio e così diamo la possibilità ai nostri telespettatori di sentire la melodia del miserere in silenzio in silenzio in silenzio Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ecco, sta riprendendo il miserere. Vediamo la bacchetta luminosa del maestro Loris Vedoro che dà il via. Il miserere. 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 Diego Ferrara, il Presidente del Consiglio Comunale Luigi Febo e le altre autorità, il Prefetto Armando Forgione e il Questore Annino Gargano. E adesso la processione continua per le vie della città e ci avviamo alla conclusione di questa trasmissione. Bigi ci dica il suo commento finale. Sono anni che, lo ripeto, ma non mi stancherò mai di dirlo. Chieti e i teatini, in primis, devono imparare a sfruttare le cose belle che hanno e ne possiedono veramente tante. È una città che non deve inventarsi nulla, già tutto. È da tempo in attesa di un buon regista che sappia farla fruttare al meglio, anche per un giusto ritorno economico ed occupazionale. Ha bellissimi musei, belle chiese, angoli e piazzette caratteristici. Tradizioni pasquali ancora vive. Ha un bel teatro, manifestazioni sulle quali deve investire. Mi riferisco ad esempio alla settimana mozzartiana, al presepe vivente, all'infiorata del Corpus Domini. Manifestazioni che nacquero per essere eventi e tali devono tornare ad essere. Alla processione più antica e tra le più belle d'Italia. Abbiamo avuto modo di sentirlo e di vederlo questa sera. Potrebbe intorno a questo organizzare una settimana di eventi, una settimana da vivere a Chieti, toccando anche le altre eccellenze religiose. Penso alla processione del Giovedì Santo a Lanciano, quella di Domenica a Sulmoni, Talami di Orsonia, del Martedì del Lancio. Ecco, un pacchetto turistico da non perdere. Chieti ha tutto quello che le occorre per ben figurare. In più, fa parte di un territorio ricco di eccellenze religiose, naturalistiche e storico-architettonico. La parte progettuale è pronta da tempo. Occorre solo crederci e mettere insieme le energie di più soggetti. Ecco, la processione di questa sera ne è una testimonianza. Mettendo insieme tutte queste confraternite, grazie alla regia dell'Arci confraternita del Sacromonte dei Morti, Chieti veramente realizza quello che poi è la teatinità stessa. Quando uno parla di Chieti, parla della processione del Venerdì Santo. Queste immagini ci restituiscono a un corso parrucino pieno di persone. Stefano Marchionno, ci commenti anche lei? Beh, queste immagini sono fantastiche. Assistere per la prima volta nella mia vita alla processione del Venerdì Santo davanti a un monitor, o meglio, commentare. Pensavo che fosse di avere un atteggiamento più distaccato, però quando è passato il Cristo morto, la Madonna, i brividi arrivano sempre. Così come ascoltando le note del miserere, una lacrimuccia, scende sempre sulle guance. Quindi, che dire, tutto bene, tutto molto bello. È un segno di ripartenza. Vediamo anche la bandiera della pace che sventola qui dal palazzo della provincia. Auguriamoci che davanti, nel prossimo futuro, la guerra in Ucraina finisca e che si possa tutti riprendere verso un futuro migliore. Io vorrei concludere, se permetti Pietro. L'abbiamo richiamato all'inizio Raffaele Fraticelli, grandissimo uomo, grandissimo poeta, marito, padre, che era deceduto recentemente lo scorso primo novembre all'età di 97 anni. E vorrei concludere con gli ultimi versi della sua poesia, Minire de Sant, che è particolare perché è stata letta direttamente dall'autore, quindi direttamente da Raffaele Fraticelli, per la prima volta sul programma nazionale RAE, la sera del venerisanto, del lontano 1953. E Raffaele Fraticelli, così concluse la sua poesia. Grazie per queste parole dell'indimenticato poeta Raffaele Fraticelli, Con queste bellissime immagini del fuoco che arde lungo corso marrucino, noi vi salutiamo e vi auguriamo una buona Pasqua. Un saluto a tutti i telespettatori e ringraziamo lo staff di Rete 8 che si è impegnato al 100% per garantire la copertura di questo appuntamento. Gli operatori di ripresa Antonio Dottavio e Alberto Capo. Ringrazio la regia Andrea Di Fabio e poi lo studio centrale di Rete 8 Danilo Cinquino. Da me Pietro Lambertini, da Aurelio Bigi e da Stefano Marchionno un cordiale buonasera e buona Pasqua.